Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR Oggi faremo dei suoni molto molto carini E ho ricreato questa atmosfera perché mi sembrava abbastanza rilassante Infatti i colori non sono proprio vivi Però diciamo che c'è la luce soffusa e mi piace così Quindi incominciamo subito Intanto volevo farvi in anticipo gli auguri per queste feste natalizie Quindi auguri di buon Natale Auguri di buon Natale e penso che andranno sempre online dei video durante queste vacanze Però comunque ci tenevo a farvi lo stesso gli auguri Anche perché non faccio sempre la stessa tipologia di video Quindi 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 non è detto che tutti guardino anche gli altri Quindi intanto vi auguro un sereno Natale Se volete altri video ASMR vi invito a iscrivervi al canale Mettere un bel like e lasciare un commentino qui sotto C'ho scritto la tipologia di altri video ASMR che volete vedere E io ve le realizzerò molto volentieri Anche perché ho notato sul mio canale sono davvero tanto apprezzati E vi piacciono tanto E me li state richiedendo in tantissimi Quindi eccomi qui E nulla Incominciamo Partiamo dal suono che preferisco Che è quello della mia amatissima La Yankee Candle Questa è la Sweet Strawberry Per farli alle sagole Allora Volevo chiedervi anche un consiglio Io ho il Blue Yeti Il microfono In realtà l'ho preso per fare Altri tipi di video E in realtà appunto per fare i voice over Del mio primo canale Che va questo Del canale normale Dei video normali che faccio E lo avevo già Però non so come si collega alla fotocamera Quindi se voi sapete che cavo devo usare Fatemelo sapere Perché è un peccato averlo e non utilizzarlo Cioè mi spiace davvero tantissimo E quindi Fatemi sapere Come posso fare Ad utilizzare il Blue Yeti Che peraltro è funzionante Però Non so collegarlo Poi Alcuni Mi hanno detto che parlo Troppo veloce E è vero Mi devo impegnare a stare un po' più tranquilla Perché in realtà Nei video sul mio canale normale Non posso parlare Tanto piano Perché altrimenti La gente si addormenta Questa candela Sa proprio di Sa proprio di È buonissima Di gelato alla fragola È proprio una goduria Davvero troppo Troppo buona E Quindi Ecco Qua ho messo Tante lucine Con i festoni Proprio in stile natalizio Io adoro il Natale Mi piace tantissimo E penso un po' a tutti Se crea questa Magia Poi Passiamo a questo specchietto Il specchietto Orrosa Che è troppo bello Questo è di Wet n Wild Wet n Wild È troppo carino Ho un problema Ho un problema con i tappi Perché Ho le unghie Le unghie Su alcune dita E su altre no Ed ecco Quello specchietto Poi Passiamo a fare il tapping Su questo vasetto Che Mia sorella Ha decorato E ha fatto un video Sui vasetti di Natale E questo Dove fa rappresentare Pappo Natale Solo che Poi il mio cane Ha staccato la cintura Pappo Natale Troppo Troppo Rilassante Proprio anche il suono Della 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 Vatta All'interno C'è anche Questa baglia Pappo Natale Queda davvero rilassante Queda davvero rilassante Poi Poi In questo vasetto Abbiamo Tre palline Di Natale E Quale occasione migliore Per fare un po' di tapping Pappo Natale bene Grazie. Andiamo a rimetterle a posto. E poi qui ho trovato il mio libro preferito che non metto a caso in questo video. Questo è The Secret. Questo libro non l'ho scelto a caso. Questo è The Secret. E siccome questo è uno degli ultimi video ASMR di quest'anno, voglio davvero che alcuni di voi lo leggano. Perché a me ha davvero cambiato tutto il mio 2019. È un libro di crescita personale. E spero che a tanti di voi che si trovano in una situazione un po' brutta e triste, aiuti sul serio a cambiare il vostro nuovo anno in arrivo. Quindi gli ultimi suoni voglio farli con questo. Allora. 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 E' davvero un libro magico. E spero che aiuti qualcuno di voi per questo nuovo anno che arriva. E niente ragazzi. Questo era il mio video. Spero che vi siate rilassati o che vi siate addormentati. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. E buonanotte. 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 Buonanotte Buonanotte